C'è qualcosa nel nostro laboratorio che ci impedisce una vita sana e sono questi 43,5 centimetri, diciamo 44, ma diciamo anche, ma sì, 44, perché qui abbiamo sicuramente un centimetro. Questi 44 centimetri ci impediscono una vita sana e quindi la mia intenzione è la seguente, due punti, aperte le virgolette, prendere alcuni di questi, io ne ho diversi di questi scaffali qua di metallo e modificarli come ho fatto con questo per metterli qui, quindi da uno tagliato ne ricavo due, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, devo prendere tre ripiani, segarli e ottenere dei ripianini da mettere in mezzo e a questo punto ho conseguito la vittoria del socialismo lui. Ce la faremo? Chi lo sa. Ed eccoli. Ah, ma abbiamo anche delle inutili sbarre, le mettiamo di lato. Non ci resta che prendere le misure e sostanzialmente segare, segare a 44 centimetri di supporto e lasciare il necessario per fare la piega, la piega. fa' un culo. c'è abbastanza spazio per fare la piega. 44. Quindi abbiamo questo pezzo da poter poi ripiegare. Bene. Cominciamo a tagliare. Ce la faremo? Chissà. La telecamera è in mezzo al cazzo. Sempre. Sempre in mezzo al cazzo. Sempre. E Sprempacağım capire. Portiamo. Il pomeriggio preparo dalla metà. La metà. A Sportsback. Il pomeriggio preparo. Spergio il vestaggio. devo tracciare una riga a occhio e segare ed eccoli qua, ora io ripiego questa lamiera magari pulendola un attimo e ottengo due ripiani due comodi ripiani avevo un pezzo di legno atto all'uopo ma non lo trovo dato che ovviamente non trovo più il pezzo di legno che ho usato l'altra volta userò questi pezzi e lo farò a mano perché viene bene lo stesso come vedete è già piegato e poi mi basta mi basta richiuderlo così sì, è un po' una merda ma nulla che un paio di viti possano sistemare magari anche qualche martellata e ho trovato anche il pezzo di legno qua perfetto poi io lo alzo così bene ora c'è un solo problema qui trovare le viti giuste per il resto direi che ci siamo vediamo la misura 44 e mezzo eh, un po' di più questo l'ho fatto un po' più largo va bene ci allardiamo di qua vaffanculo ho trovato un pugno di queste viti per il metallo c'è un buco nella scaffale e la lamiera è ripiegata all'interno e questo tiene se io riesco a fare la stessa cosa qui io qui faccio un buco e poi gli ficco la lamiera dentro a martellate vediamo qui faccio un buco qua bene dopodiché ritaglio se riuscissi a trovare una forbice che non ho scusero una forbice impropria non taglio un cazzo sta forbice non ho niente con cui tagliare la lamiera ovviamente ovviamente logicamente o i di do trazza è un troiaio di voi dila quello che viene fuori ora gliela ribatto dentro a martellate vediamo se ci riesco così sono riuscito ecco ora glielo ficco qua ecco fatto devo dire che che è bloccato ma per fare le cose bene forse è meglio mettere anche le viti viti che proverò a avvitare direttamente e ovviamente questa punta non va bene che può essere la punta del cazzo che serve per quei scappari del cazzo diciamo che ce l'ho fatta perfetto perfetto mettiamo lo scaffale finito che una volta montato non darà nell'occhio e direi che la misura è perfetta magnifico ora devo fare gli altri questo con cautela e a mano l'ho piegato benissimo vediamo se riesco a mantenerlo tale e siccome fare il buco qua è troppo una rottura di cazzo io gli piazzo le diti e vaffanculo ma perché gira qui da qui questo è fatto è pronto in tempi record notevole ed eccone un altro ora procedo a fare tutti gli altri non perdo neanche tempo a pulire qua tanto non me ne frega un cazzo prendo questo lo metto qui attenziono al centro e piego piego la laniera in modo che vada dove deve andare cioè a fanculo ecco fatto poi tolgo questo pezzo del cazzo e do una aggiustatina con le mani se viene storta me ne sbatto dopo di che io ripiego la merdosa lamiera e qua vedo che ha fatto una gobba strana a volte devo dire che succede questo nella lamiera e quindi serve la persuasione della violenza serve persuadere la lamiera un po' di sana violenza ed ecco che vediamo uno scaffale con della ruggine ma me ne sbatto e abbiamo finito ora basta mettere le viti e siamo a posto mettiamo le viti lo mettiamo con rabbia inaudita va a partire dal centro la rabbia è importante la rabbia ecco fatto e già quasi quasi il nostro scaffale potrebbe andare benissimo così vediamo se aumentando la velocità ottengo più violenza ah perfetto velocemente velocemente rapido mass rapido quindi bisogna avvitare veloce ed ecco un terzo scaffale pronto ora prendiamo lo scaffale che è caduto in terra sputiamoci sopra e facciamo la stessa cosa si mette più o meno al centro si piega la lamiera si toglie il pezzo di merda poi prenderò questo che con questo forse divene meglio eh sì ed è fatta e anche questo tre viti e abbiamo finito questo al centro necessiterebbe di una vite che non ho ora io ci proverò con questa che è inadatta vaffanculo vaffanculo questo è che va il cazzi suo se ne va perfetto un po' stronza ma è andata ed eccoli fatti sono uguali a meno di qualche millimetro ma direi che sono perfettamente uguali ho fatto anche i buchi si faccio i buchi qua per i bulloni e ora ora si tratta di si tratta di rompersi il culo perché purtroppo per spostare questo scaffale devo levare tutto questo peso che ho messo su e qui forse non devo levare nulla perché dovrei poter accedere a questi io svito questi metto lo scaffale dall'interno metto i bulloni a meno che a meno che non accada l'irreparabile olocausto dell'esistenza e io sia costretto ad usare i bulloni e i dadi che non sto trovando che avevo qui e sicuramente è l'unico cassetto che manca e sicuramente è l'unico cazzo ecco qua no questi sono viti in metallo ma dove cazzo li ho messi comunque io da qualche parte ho un cassetto di bulloni che non trovo e servono appunto al fatto che non li trovo e quindi io adesso sto per esplodere in bestemmie bestemmie epocali perché dovrei avere dio di dio di dio di merda merda dio di porta fusibili piombi batterie molle resistenze zoccoli viti in metallo non sono loro dove sono i bulloni vinotti triac fascette compensatori pulsanti tutta la merda c'ho tranne quello che mi serve capito ah ma forse sono qua infatti sono qua io c'ho questi sicuramente non passeranno né qua dentro ah no qua dentro ci passano bene ma sicuramente questi non passeranno qui io già lo so quindi dovrò allargare tutti questi buchi infatti non ci passano molto bene li allargerò ma probabilmente non passeranno neanche qua e allora farò la seguente userò la violenza toglierò queste viti spanerò con la punta del trapano da 27 così questi passeranno senza problemi ok vediamo se riesco a fare questa ripresa senza bestemmiare come un turco ottomano con otto mani via questi libri del cazzo via questi manuali della vinchia troiate sono pieno di troiate questo perché non finisce il discarito perché 200 tonnellate di pioneer dove è la punta dove è la punta? eccola qua eccola qua e questi sono pronti quindi super punta spana tutto dimensione bosnia-erzegovina e spaniamo con allegria ecco fatto ecco come si fa si spana si spana tutto dobbiamo spanare anche di qua spanos spanos come dicono i greci spanos adesso adesso e adesso che cazzo faccio adesso metto gli scaffali però devo spanossare anche questi beh sì questi anche loro vanno spanossati sicuramente abbiamo rovinato tutto ma è la violenza che ci spinge e adesso andiamo a piazzare il primo scaffale vediamo se ce la facciamo con questi bulloni giganti ecco io ne devo mettere uno qua e ovviamente mi casca ora viene la parte difficile quella dove dove le dita scivolano ed è impossibile fare entrare questi cazzo di bulloni e tenere con la testa restemmiando perché qua casca tutto restemmiare oi di rogazza balucna fa per che cazzo per che cazzo per che cazzo che cazzo non si muove oi di rogazza balucna fa oi di rogazza 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 è un bagno di sangue ora questo l'ha sceso così e direi che il sistema sta prendendo forma con una quantità di bestemmie colossali niente non passa non passa non li ho spanati ambo i lati ecco perché non ho usato l'adeguata violenza ecco come si fa ora si passa tranquillamente e questo è il proof of concept degli scaffali ridotti che devo dire mi lascia piacevolmente soddisfatto adesso abbasserò questo lo abbasserò a livello Ikea perché lo standard è Ikea e devo dire che si funziona veramente bene la cosa è semplicemente è terribilmente laborioso il problema è che devo smontare anche questo quindi devo fare una superfettazione che mi permetta di svitare qui dietro non ci riuscirò mai con fatiche bestiali ho messo le ripiano di sotto e le ripiano di sopra che ora devo stringere e ora come si stringiamo vediamo se con la violenza vediamo sembrerebbe funzionare certo se non girasse a vuoto potrebbe anche funzionare se non girasse a vuoto questo sembra stretto ben solido allineato e va fanculato soprattutto e va fanculato e va fanculato perché non stringe? posso devo mettere a potenza 20? ora vediamo se stringe ora a stretto questa merda gira a vuoto ecco che c'è perché c'era a vuoto questa merda e la bafo ma se vana tu e la bafo ma se vana tu e la bafo ma se vana tu ora forse ha preso avvicinarlo un poco di più forse e no è già così quindi vuole l'odio vuole anche lui l'odio perché la potrà non ci è perso vediamo vediamo se riesco a stendermi a stendermi olocausto se mi stendo olocausto posso vedere vedere dove ficco ma è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile si ce l'ho fatta si e maledetto maledetto ma chi me l'ha fatto fare chi me l'ha fatto fare ora la stessa cosa per gli altri morendo morendo male un'ora di bestemmie sangue e sudore un'ora di santi tirati giù tirati giù i santi ma ce l'abbiamo fatta abbiamo la parete scaffale abbiamo guadagnato in un certo senso come se fossero tre ripiani perché questi due sono un ripiano questi due sono un ripiano e questi due sono un altro ripiano allora questo scaffale è leggermente discosato dalla parete ma potrei avvitarlo a muro e dimenticarmelo oppure potrei sbattermene il cazzo perché mi sono veramente tolto la vita però adesso ho molto più spazio ho risolto il problema di quello spazio al centro inutilizzato grazie all'autocostruzione di questi ripiani adattati ammazzate vedete qui non sono proprio per la quale ma insomma va bene va bene devono tenere della roba sono più che sufficienti io però adesso sono finito dovrei rimettere a poto tutta questa roba e non riesco neanche a parlare però però da questo momento in poi basta basta qui abbiamo la zona finestra è così sto morendo oddio va bene va bene e qua ci sta anche la scatola Ikea volendo altre scatole Ikea ma qua ci devono stare anche le cose che non solo sono qua su questo tavolo ma devono starci anche le cose che sono qui e voi vi chiederete ma dove lo metti adesso l'HP che sono tutti scatole Ikea compliant e io vi dirò che me ne sbatto me ne sbatto perché l'HP lo posso andare a mettere là sopra e vaffanculo e quelle scatole le metto qua oppure l'HP lo posso ficcare lì dove c'è la finestra e vaffanculo alla finestra insomma ci sono tanti metodi oppure l'HP lo posso andare a sbattere che ne so sopra il raccoglitore olivetti ci sono tante cose che si possono fare ma tante che invece è meglio non fare e tra il fare e non fare è un dilemma che ancora non siamo riusciti a risolvere purtroppo ci siamo dati al fare il nostro fare diventa il nostro disfarci noi ci disfiamo nel fare infatti sono disfatto vedete questo? ma in realtà è dritto perché lì è discontato di un millimetro di un centimetro scusate e qua pure quindi non deve necessariamente stare così in realtà lo scaffale in questo momento è perfettamente dritto poggiato quindi perché mi sto preoccupando? me ne sbatto me ne sbatto sapete cosa vi dico? me ne sbatto gli diamo un'aggiustatina ecco fatto questo va bene così questo così questo ok questa parte è un po' bruttina va bene così perfetto ecco questo è un po' ora ci siamo questa parte è un po' più alta passiamo così perfetto nulla che il mazzuolo di gomma non possa risolvere e detto questo adesso ci resta solamente che fare pulizia ordine disciplina aspirare la polvere pulire questo orrendo pavimento che si è di nuovo sporcato completamente e cos'altro aggiungere? ecco che ho trovato una delle viti degli scaffali che li metterò qua e adesso me ne andrò a fare in culo senza passare dal via vedo la luce scrivania quasi libera scaffale semilibero ci sono alcune troiate ma vedo la luce poiché il mega scaffale sortisce l'effetto desiderato ora per adesso l'ho riempito un po' diciamo alla rinfusa ma nei prossimi giorni farò sicuramente meglio toglierò delle cose ne sposterò altre c'è roba che qui non uso mai perché perché non è il momento e quindi sono cose che vanno tolte l'unica cosa che non ci entra è questo ma questo nella mia mente contorta finisce sopra sopra la cassettiera Olivetti al posto di quella merda di legno cagata und vomitata mentre qua in realtà qui in questo spazio lungo questa parete dove c'è questo urloge io ci potrei mettere l'altro scaffale quello di metallo e però la cassettiera dove me la sbatto questo è un problema dove sbattersi la cassettiera Olivetti? lo vedremo nelle prossime puntate di devastazione e saccheggio all'interno di una fottuta grotta dove si cerca di ricavare spazio inutilmente